Di stare girati, attaccati, ma girati comunque fa molto, perché non ti puoi girare, non puoi avere il controllo, devi fidarti di quello che ti dico io e allo stesso tempo devi chiudere il piatto, perché non si può non chiudere il piatto, per cui bisogna essere anche ogni tanto veloce, per cui ci siamo divertiti, abbiamo trovato delle persone, personaggi incredibili e le altre, la cucina la conoscevo, quello che speriamo è che vada bene, giusto? Sicuramente andare in una fascia d'orario del genere non è semplice, però non te ne rendi conto fin quando non andrà in onda, però insomma diciamo che è un bel ritorno in un modo un po' diverso e soprattutto anche molto più leggero e divertente.